35 telecamere di video sorveglianza sul Vesuvio per monitorare incendi e sversamenti illegali di rifiuti nel parco nazionale colpito dai roghi la scorsa estate. Lo ha annunciato il ministro Sergio Costa che ha proposto l'applicazione del DASPO ambientale anche a chi appicca i roghi perché ha detto chi non ama il suo territorio deve andare via. I 35 occhi elettronici intelligenti saranno posizionati nei 13 comuni del Vesuvio e permetteranno riprese ad alta definizione sia di giorno che di notte grazie a un sistema a raggi infrarossi mentre con 10 lettori di targhe sarà possibile il riconoscimento dei veicoli in ingresso e in uscita dalle aree impervie del Vesuvio. Il ministro Costa ricordando la devastazione ambientale dello scorso anno ha anche chiesto ai comuni di impegnarsi perché i rifiuti non entrino più nei parchi nazionali. Un anno fa piangevamo più di quasi 3000 ettari di bosco di questo territorio del Vesuviano che erano andati in fiamme quindi è stato l'anno scorso un luglio devastante ma non solo nel fatto tecnico ma anche nell'anima di ciascuno che abita in queste zone compreso il sottoscritto. Oggi si inaugura il sistema di videosorveglianza con 35 videocamere che possono però di notte e di giorno funzionano per vedere chi appicca fuoco per vedere chi deposita in modo incontrollato i rifiuti cioè anche dei passaggi supplementari. Poi si può fare sempre di più per esempio si deve finire si deve ultimare ma si sta facendo il piano di recupero del cosiddetto soprassuolo cioè delle alberature che l'anno scorso sono andate bruciate. Nella riserva Tirone Alto Vesuvio si sta facendo già da un anno e tutta ingegneria naturalistica quindi anche a zero impatto ambientale si deve fare nel resto del territorio però si sta facendo quindi nessuno sta a girarsi i pollici i risultati concreti ci stanno adesso dobbiamo aspettare e auspicare io spingerò da ministro dell'ambiente che anche gli altri parchi nazionali d'Italia facciano percorsi simili perché si può fare perché le risorse ci sono bisogna saperle amministrare io dico prima di chiedere nuove risorse bisogna sapere gestire bene quelle che si hanno. Per ora il 2018 con una temperatura superiore di 1,40 gradi rispetto alla media storica si classifica al terzo posto degli anni più bollenti da quando si rilevano le temperature attorno al 1800. È evidente anche in Italia la tendenza recente al surriscaldamento spiega la Coldiretti dopo che il 2017 si era classificato al sesto posto tra gli anni più caldi da 218 anni con una temperatura che era risultata di 1,16 gradi superiore alla media del periodo di riferimento ma il 2018 è stato segnato anche da intense precipitazioni con nubi fragi, trombe d'aria, bombe d'acqua e grandinate. L'estate è infatti iniziata con la caduta del 124 per cento di pioggia in più a giugno dopo che la primavera ha fatto segnare un'anomalia del più 21 per cento rispetto alla media storica tutti segni dei cambiamenti climatici in atto. In Italia un piccolo comune ogni 10 circa è a forte rischio idrogeologico. A segnalarlo è una ricerca condotta dall'Anci sui piccoli centri, quelli fino a 5.000 abitanti, presentata alla 28esima conferenza nazionale Anci Piccoli Comuni, Small City and Smart Land. In Italia sono 541 i piccoli comuni a forte rischio idrogeologico su un totale di 5.584 centri. In questi paesi oltre il 20 per cento della popolazione residente ha medio o forte rischio di essere coinvolta in fenomeni franosi. La maggior parte si trova in Piemonte, 109 comuni e in Lombardia 90. Nessuno invece risulta in Puglia. In Italia nel 2017 ogni 55 minuti le procure hanno aperto un fascicolo per reati a danno degli animali e le denunce per questa tipologia di crimini sono cresciute del più 3,74 per cento. Nel 2017 si sono aperti circa 26 fascicoli al giorno, uno ogni 55 minuti e una persona è stata indagata ogni 90 minuti con un'incidenza pari a 15,38 procedimenti e un tasso di 9,60 indagati ogni 100.000 abitanti. È quanto emerge dal rapporto Zoo Mafia 2018, crimini e animali. Sono 8.518 i fascicoli pervenuti nel campione di procure analizzato per i reati a danno degli animali. Le denunce, quindi i procedimenti, nel 2017 sono aumentate del più 3,74 per cento rispetto al 2016, con una flessione del numero di indagati del meno 1,08 per cento, dai dati di un campione di 98 procure su 140 che hanno risposto sia nel 2016 che nel 2017. Questa mattina la Giunta, approvando questa delibera, ha voluto imprimere una svolta a un tema che sappiamo è all'ordine del giorno, purtroppo non sempre in positivo, delle cronache e della vita dei cittadini, e quello dei rifiuti e che parte da una consapevolezza della necessità di voltare pagina su un punto. La quantità di risorse finanziarie gettate, in questo caso è proprio giusto dirlo, in un cattivo ciclo dei rifiuti, ormai è insopportabile. È insopportabile perché convivono l'ansia della ricostruzione di un nuovo modello economico con poi l'incapacità di utilizzare le risorse pubbliche in maniera intelligente. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando il piano Plastic Free. La quantità di risorse gettate in un cattivo ciclo dei rifiuti, spiega Zingaretti, è diventata insopportabile. Un modello di sviluppo sostenibile dimostra che si può spendere meno, produrre qualità della vita e ricchezza. L'obiettivo, spiega il Presidente del Lazio, è che in tutte le ASL si facciano gare d'appalto nelle mense con capitolati che non producono plastica.